L'invasione russa stanno arrivando in Italia e in Veneto sempre più profughi. Noi abbiamo arrivi continui di macchine e pullman sia a Venezia che in altre parti del Veneto. Si tratta di arrivi spontanei, incontrollati e incontrollabili che mettono poi in difficoltà le strutture delle prefetture, dei comuni e anche della regione. Come può essere migliorata questa situazione? Allora alle persone che vanno a prendere i loro parenti, i loro conoscenti o i loro amici nelle zone di confine chiediamo di avvertire prima di partire, di avvertire le prefetture o le forze di polizia o anche i comuni stessi in maniera tale che noi possiamo organizzarci qui a dare una risposta, la migliore risposta possibile alle esigenze di queste persone. Chiamare anche perché poi ci sono delle procedure che devono essere fatte all'arrivo. La prima cosa che dobbiamo fare è quella del tampone, eventualmente se accettano anche il vaccino, ma prima di queste due cose noi non possiamo sistemarle negli alloggi qui in Italia. Entro 48 ore queste persone devono registrare la loro presenza sul territorio andando dalle forze di polizia o dall'autorità che è il sindaco, l'autorità locale di pubblica sicurezza. Molti di questi profughi in realtà transitano per il Veneto ma poi vanno in altre regioni. Stiamo formalizzando dei contratti con alberghi di mestre della nostra provincia per accogliere anche questo tipo di persone.